Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono Guido, alcuni mi ricorderanno come Gujodic sul forno di Ubuntu parliamo di ormai più di dieci anni fa prima premessa, questo è il primo video su YouTube di questo genere che pubblico, quindi siate comprensivi se non è professionale come i bravissimi YouTuber che vedo in giro in questi anni ho continuato ad usare GNU Linux, perché Linux è solo il kernel ma sono passato ormai dal 2016 circa a un'altra distribuzione, non più Ubuntu ma Mangiaro e in questo video cercherò di spiegare perché l'ho fatto e perché forse potreste farlo o potreste volerlo fare ci sono molti utenti che sono insoddisfatti di Ubuntu per vari motivi ad esempio io ero insoddisfatto perché gli aggiornamenti del sistema delle applicazioni avvenivano ogni sei mesi quindi mi ero creato un repository con molta fatica in cui mettevo le versioni aggiornate dei programmi che dovevo far compilare su launchpad caricare ogni volta eccetera, era un po' un casino e poi molti utenti sanno che l'aggiornamento semestrale è qualcosa di non banale può creare problemi, qualcosa si può rompere e di solito succede cosa ha fatto Ubuntu? Nelle ultime release, soprattutto questa, la 2204 per avviare questi problemi ha sviluppato un sistema che si chiama Snap praticamente è simile a un altro sistema sviluppato da Fedora che si chiama Flatpak e praticamente questo sistema cosa fa? installa la nuova versione dell'applicazione con tutte le librerie e quindi praticamente un'applicazione, non so, di 5 megabyte diventa di 100-200 megabyte perché dietro si porta tutte le librerie e quando viene caricata in memoria e ovviamente occupa tutta quella memoria e ci mette molto tempo a caricarsi e le prestazioni diminuiscono e insomma, non è così bello per me è una cagata pazzesca fa abbastanza schifo però esiste un altro modello rispetto ai rilasci a tempo, diciamo è quello della rolling release che vuol dire praticamente un aggiornamento continuo di tutti i programmi sia quelli di sistema, sia le applicazioni man mano che escono i programmi le nuove versioni dei programmi vengono aggiornate la distribuzione rolling release per eccellenza direi è Arch Linux però è troppo complicata da installare io ci ho capito un cazzo quindi sono nate diverse derivate di Arch Linux che semplificano l'installazione del sistema e anche altri compiti e la più famosa di queste è probabilmente Mangiaro Linux ora, mangiare è una parola africana forse vi ricordo il Chilimangiaro che è appunto in Africa e come Ubuntu è una parola africana e io credo non sia proprio una coincidenza perché come sapete Ubuntu è un'antica parola africana che vuol dire non sono riuscito ad installare Debian quindi Mangiaro probabilmente è un'antica parola africana che vuol dire non sono riuscito ad installare Arch ma andiamo a vedere come funziona Mangiaro Linux e premetto io non reinstallo nulla il mio sistema non l'ho reinstallato è sempre quello dal 2016 quindi sono sei anni che ho sulla mia Mac anzi ho cambiato computer ma non ho reinstallato il sistema ho semplicemente fatto una copia carbone delle partizioni e l'ho messa sul nuovo computer e sono sei anni che il mio sistema operativo va lì non ho mai reinstallato è sempre in continuo aggiornamento e tutto funziona bene ecco questo per dirvi l'affidabilità di Arch Linux e delle sue derivate come Mangiaro ma andiamo a vedere come funziona questo sistema operativo allora permesso io ho KDI però Mangiaro viene con tre versioni una è quella principale diciamo così quella storicamente prima era XFCE poi sono uscite quelle con GNOME e KDI e adesso GNOME e KDI sono ufficiali allora come funziona il sistema dei pacchetti il gestore dei pacchetti non è apt come nel caso di Debian e derivate ma si chiama pacman e possiamo intanto vediamo come funziona a livello di terminale molto semplice una sintassi molto semplice per esempio per installare tutto per diciamo aggiornare i repository e vedere se ci sono degli aggiornamenti sudo pacman meno s y y u spero vedere anche come si fa configurare il vettore d'impronta vedete che qui ci sono delle cose da aggiornare io le aggiorno così tranquillamente e questa c'è Google Chrome guarda un po' Google Chrome non è nei repository di Mangiaro ma è in una cosa che adesso vi farò vedere si chiama Auro e ho finito installare e vedete molto semplice ovviamente esiste un gestore di pacchetti grafico e Mangiaro viene con questo qui che si chiama Amac e Pacman e Pacman sono fantasiosi però io preferisco utilizzare un altro che è sempre preinstallato con Mangiaro o almeno lo era quando l'ho installato io che si chiama OctoP perché è più adatto all'ambiente grafico che di E perché è fatto con le librerie Qt e vedete è molto simile al Synaptic se l'avete mai usato su Debian e Derivate quindi anche su Ubuntu e qui ad esempio se io voglio installare un programma diciamo che voglio installare che ne so Digicam che serve per il programma di piedi per le fotografie per la gestione delle fotografie faccio così faccio install mi dice che ci sono delle dipendenze azionali cosa possono servire per esempio per fare i panorami per le immagini raw eccetera faccio in questo caso non installo nulla di quelli suggeriti faccio applica e mi dice che installerà poi questa cosa qui e dico sì metto la mia password uso il lettore di impronta digitale e così si installa tranquillamente come come niente perfetto e poi me lo troverò perfetto adesso non mi interessa questa cosa qui lo disinstallo quando lo disinstallo mi fa disinstallare anche quelle dipendenze che mi ha fatto installare confermo sì è tutto pulito due cose importanti Mangiara non è identica ad Arch Linux perché ha un sistema diciamo di quarantena dei pacchetti chiamiamola così in pratica funziona in questo modo adesso me lo faccio vedere in pratica tutti i pacchetti che arrivano da Arch Linux arrivano nel deposito unstable di Mangiara dopodiché questo viene fatto un aggiornamento giornaliero dopodiché passano al repository testing di Mangiara e solo dopo quindi passano in genere due settimane arrivano al ramo stabile di Mangiara però è possibile utilizzare tranquillamente anche il ramo unstable è semplicissimo passare da un ramo all'altro io infatti uso l'unstable e mi sono trovato diciamo ho avuto qualche problema veramente molto molto raramente può capitare che una libreria non si aggiorni contemporaneamente al programma che la richiede o viceversa può succedere qualcosa ma se siete minimamente smaliziati riuscite a uscire fuori da qualsiasi problema io ho avuto un solo problema importante una volta sola in sei anni appunto in cui praticamente si era aggiornata una libreria per login PAM non doveva aggiornarsi ma insomma poi sono riuscito con un CH ad entrare comunque nel sistema e a ripristinare la vecchia libreria ma io penso che questo sul ramo stabile di mangiare probabilmente non mi sarebbe successo io perché uso l'unstable mi è successo ma ripeto in sei anni mi è successo una volta sola di trovarmi in una difficoltà relativamente grossa adesso andiamo a vedere una cosa importante che è la seguente AUR AUR è un sistema di pacchetti non precompilati ma da compilare praticamente c'è uno script che per esempio un volontario può mettere sul repository AUR che sta per Arch Linux User Repository e che è compatibile comunque con mangiare o soprattutto con il ramonstable che è molto sincronizzato con con archlinux mentre se hai usato il ramo stabile probabilmente avete delle librerie magari più vecchie che potrebbero darvi problemi con qualche pacchetto AUR però anche questo è abbastanza abbastanza raro se invece utilizzate il ramonstable siete praticamente allineati con archlinux quindi problemi non ce ne sono cosa succede? un utente può mettere su AUR un pacchetto non precompilato ma di compilazione che si chiama Package Book Build e praticamente voi con un programma riga di comando oppure con lo stesso Octopee che vi ho fatto vedere prima potete tranquillamente installare questo programma da questo repository esterno ad esempio uno di questi è Chrome molto spesso si tratta diciamo su AUR trovate dei pacchetto o delle versioni di sviluppo delle librerie dei programmi che già sono dentro i repository di Arch o di Mangiaro oppure potete installare delle versioni patchate oppure potete installare dei plug-in non so per OBS per esempio ne tanti di plug-in che stanno su AUR come si fa va qui su questa icona aliena per esempio io scrivo OBS vedete mi escono tutta una serie di pacchetti che hanno a che vedere con OBS magari cerco solo per nome per esempio il plug-in per OBS per far funzionare DroidCam che ad esempio io non uso e quindi non installerò però ne ho altri ad esempio questo per rimuovere il background che non serve circa a nulla perché funziona male però proviamo ad installarne uno vediamo un po' vediamo un po' installiamo questo tanto e questo andiamo così lui che fa lui lo scarica o meglio scarica i sorgenti e lo compila dopodichè lo installa con il piede da passo tac basta come se fosse un pacchetto normalissimo inoltre c'è un'ulteriore comodità di un repository che si chiama chaotic hour questo repository praticamente precompila una serie di pacchetti più comuni che trovate su hour come gestore di pacchetti volendoci potevamo usare anche discover che è quello di KDE ma una merda più o meno niente questo era il mio primo video e spero vi sia piaciuto nel prossimo video vi spiegherò come introdurre qualche piccolo elemento di punto dentro KDE e mangiare ciao